Buongiorno inizia una nuova settimana oggi è il 16 di maggio inizia con un tempo così così ma migliorerà nel corso dei prossimi giorni quindi tornerà l'alta pressione e tornerà anche il bel tempo lo vedremo tra un istante oggi la chiesa cattolica tra i tanti santi che ricorda ne ricordiamo noi due san giovanni il primo e poi ricordiamo anche sant'ubaldo di gubbio il sole è sorto alle 5.41 tramonterà alle 20.27 per oggi avremo cielo irregolarmente nuvoloso soprattutto al mattino poi la nuvolosità diminuirà lungo la fascia costiere collinare nel corso del pomeriggio anche se rimarranno addensamenti interni con pioggia nel corso del pomeriggio anche nelle zone dell'entroterra ci saranno rovescio temporali sparsi infatti nelle zone interne le temperature sono in ulteriore diminuzione in particolare nei valori minimi per la giornata di domani martedì 17 maggio cielo parzialmente nuvoloso al mattino con precipitazioni nella parte nella mattinata soprattutto nell'entroterra e come vedete lungo la costa san benedettese temperature in aumento nei valori massimi dicevamo del consolidamento di un'area di alta pressione che determinerà una settimana all'insegna del tempo stabile. C'è chi dice 400 c'è chi dice 500 persone insomma ieri è stata la giornata dedicata alla protesta la protesta contro la costruzione dell'ospedale unico così come indicato nella delibera a Fosso Segliore. Tutti i giornali chiaramente questa mattina ne parlano cominciamo dal Carlino la pagina di Pesaro ecco qui la foto foto notizia con due manifestanti con un cartello Fosso Segliore non si tocca non fate l'ospedale in 400 la marcia trasversale sinistra destra e movimento 5 stelle insieme per appunto dire no al sito che deve dunque rimanere così libero e al progetto di finanza. Poi sopra sulla prima pagina del resto del Carlino vedete la troce delitto di Ismaele Lulli di Sant'Angelo invado la criminologa molto apprezzata Roberta Bruzzone che scende in campo dunque per Ismaele Ambera che la ragazza ricorderete che in tutta questa vicenda questa ragazzina che quasi sembra uscita subito di scena ma in realtà per la criminologa forse non ha detto tutto questa ragazzina della quale era innamorato il presunto assassino insomma l'assassino anzi non presunto che ha confessato insomma ecco quindi bisognerà secondo la criminologa indagare un po' anche o capire un po' meglio il ruolo di Ambera o Ambra in italiano. La pagina di Pesaro invece del messaggero eccola qua un mese per bloccare Fosso Segiori manifestanti la marcia contro il sito dell'ospedale unico hanno chiesto alla regione un passo indietro la lotta si sta sempre più fanesizzando polemiche per la presenza dell'euro parlamentare Laura Comi. A centro pagina il Fano che passa e vola in finale parliamo di calcio il Fano raggiunge la finale di playoff con il Campobasso mentre la cronaca allega il cane per andare a fare spesa multata dalle guardie zoofile successo sabato pombriggio in via Branca nel cuore del passeggio e poi ci dispiace davvero tanto per Francesco Greco 78 anni era il volto di TVRS con un collega di TVRS si è spento ieri mattina all'improvviso e quindi un cronista di razza davvero sfidava niente meno il treno per consegnare in tempo le notizie alla tipografia di Roma e vinceva sempre lui. Francesco Greco giornalista volto di TVRS dell'ufficio stampa della regione Marche è morto ieri mattina a 79 anni all'ospedale di Recanati dove era andato con la moglie perché non si sentiva bene e davvero il funerale si terrà domani a Recanati alla chiesa di Cristo Redentore alle 15 e 30 naturalmente alla moglie e familiari le condoglianze di Fano TV. Entriamo nelle pagine del messaggero unioni civili sono 25 le coppie di fatto che potranno dire sì già iscritte nel registro della famiglia anagrafica che è stato istituito dal comune di Pesero dopo un acceso dibattito. E poi l'altra pagina eccola qua un mese per bloccare Fosso Segiore o ieri mattina c'è stata questa marcia trasversale quindi dove hanno partecipato davvero partiti di destra di sinistra di centro. La battaglia si sta sempre più fanesizzando a Pesero tema meno sentito ma un po' su tutte le cose fanesi hanno... noi fanesi siamo probabilmente anche molto più... sentiamo di più le cose non lo so evidentemente ma questo in tutto basta guardare in vari aspetti in vari... noi siamo sempre lì su tante cose insomma anche nel nostro settore l'informazione per esempio. L'assessore Mascarin dice nessun esponente del PD ma ho visto tanti loro elettori. Voi sapete insomma che a dire sì a questo ospedale a Fosso Segiore c'è solo il Partito Democratico con il Presidente della Regione Marche in testa Luca Ceriscioli. Però come avete letto insomma come abbiamo letto ci sono tanti elettori del PD che invece vanno contro quella che è la decisione o la linea politica del partito. Ieri è stata una giornata di voto anche per l'ente carnevalesca che organizza la manifestazione più antica della città. Grande affluenza per il rinnovo dei vertici scrive così il messaggero e pensate si sono recati ieri a votare 1140 associati. Si sono presentate le urne. Urne che sono state installate dalle 9 alle 15 nell'ex chiesa di Santa Maria del Suffragio dove in mattinata si è tenuta appunto l'Assemblea alla presenza di centinaia di iscritti. Ora adesso nel corso della mattinata anche sul nostro sito internet se vorrete potrete vedere quelli che sono i nomi del nuovo Consiglio poi sarà il Consiglio ad eleggere chiaramente il nuovo Presidente. Il Corriere Adriatico allora la pagina di Pesaro eccola qua la marcia dei 500 per il Corriere sono 500 adesso scelte condivise protesta trasversale a Fosso Signore c'è anche l'entroterra c'è anche l'entroterra questa è l'unica opzione che vede tutti in disaccordo questa è l'altra l'altro specchietto sul sul giornale. Dregaggio al Porto invece al via sempre a Pesaro al via i controlli del fondale tra un paio di settimane inizierà l'escavazione ritardi a causa di lungaggini come sempre burocratica. Allora adesso l'altra pagina quella di Fano invece eccola qui a Fluenza Record siamo nella sede dell'ente carnevesca nella chiesa ex chiesa del suffragio dove c'è stato appunto ieri prima l'Assemblea poi le votazioni vedete c'è un bacio distensivo se vogliamo anche quella del 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 presidente del presidente Cecchini con con Maria Flora Giammarioli la sua sfidante insomma un bacio distensivo no? Ieri sera non era stato finito non era terminato lo spoglio per i provvibiri e i sindaci in testa Berardi, Piccinetti, Gragnola e Regnier. Poi sotto hanno votato 1142 soci pari al 65,5 per cento la commissione in difficoltà per gestire la grande mole di lavoro durante l'Assemblea in atteso bacio della sfidante Gianmarioli e Cecchini scaramucce procedurali qualcuno abbiamo un file audio dove qualcuno dice adesso chiamiamo i carabinieri insomma bisogna capire adesso un po' quello che è successo ma sono anche inevitabili momenti di tensione quindi c'è sta insomma però adesso dovrebbe essere andato tutto bene poi vi racconteremo stasera come sono andate le cose nel telegiornale delle 20 e 30. I pacassoni, il ritorno dei pacassoni un dovere dare dicono loro un contributo. La banca di credito copertivo di Fano non è a rischio utile a 1,8 milioni di euro. Il bilancio è il presidente Rondine, ha rinnovato il CDA, membri ridotti da 13 a 11. Il saluto del sindaco di Fano Massimo Seri. L'altra pagina del Corriere Adriatico da Fossombrone inneggia ad Allah e all'Isis portato a Fossombrone. Sicurezza in carcere dopo la rivolta a Piacenza. Sempre in prima linea il carcere di Fossombrone continua a svolgere un ruolo strategico di primo ordine. Uno dei detenuti stranieri del gruppo che ha inscenato una protesta furibonda nel carcere di Novate a Piacenza una settimana fa inneggiando all'Isis ad Allah e alla Jihad è stato trasferito nella sezione di massima sicurezza della cittadina metaorense. Una coppia in moto tampona un'auto, due feriti soccorsi dal 118 e l'uso il conducente della vettura. Andiamo adesso per chiudere sulla pagina dei del resto del Carlino, le pagine interne del resto del Carlino, anche qui dicevamo dell'ospedale unico, della manifestazione ieri, guardate le fotografie, Fano Trasversale dice no a Fosso Segliore, Fano Trasversale lo ricordiamo, quando si parla di trasversale significa che senza colore politico, ecco, da sinistra a destra, passando per il centro tutti hanno detto no alla costruzione del nuovo ospedale a Fosso Segliore. Poi dicevamo invece del Partito Democratico che è l'unico a sostenere questa scelta dell'ospedale unico lì, parla Pucci che è il nuovo segretario, il segretario insomma del Partito Democratico di Fano, Ignazio Pucci, sulle cifre far notare il segretario c'è chi parla di 300-350 persone, non voglio dare un giudizio in base al numero dei partecipanti, prendo atto, dice il segretario, che è un calderone politico tra Fano e Pesaro che ha manifestato appunto a Fosso Segliore. Poi la cronaca, chiaramente con tutto quello che è in due pagine del resto del Carlino di questa mattina, la seconda, vedete stazione di Fosso Segliore, salviamo queste colline, qui c'è anche un fatto proprio estetico perché comunque sarebbe di grosso impatto ambientale, immaginate voi una struttura così importante, impattante come tutto quel cemento per costruire appunto l'ospedale, c'è anche un fatto ambientale, un fatto sicuramente estetico, su cui hanno puntato queste due manifestanti. Torturato per la password, poi ucciso, parliamo a Sant'Angelo Invado del delitto di Ismaele Lulli, questo ragazzo di appena 17 anni, qui c'è la criminologa, la mamma invece di Isma nel luogo del delitto con alcuni amici e parenti della vittima. La criminologa dice è stato un macello premeditato, anche qui vedete la ricostruzione di tutta quella che la vicenda è il parere di questa criminologa. In più di mille hanno votato invece per la carnevalesca, sempre sul Carlino, giornatele e tornare con momenti di tensione, un evento davvero eccezionale, ben 430 candidati divisi in 5 liste, spoglio lunghissimo, risultati solo a notte fonda. Poi in Carpegna cade con la mountain bike, una donna si è ferita in modo grave. Chiudiamo con il calcio, il derby premia il Fano, premia l'Alma, ieri Almancini contro la fermana, 2-2, non basta un'ottima fermana per fermare Granata. In campo per quanto riguarda la Serie D un duello tutto marchigiano, finisce pari ai supplementari ma passa il Fano. Ora al Mancini arriva il Campobasso, la squadra di Alessandrini se la vedrà domenica con gli ostici molisani. È tutto, grazie per aver seguito la rassegna stampa, occhio ai giornali, ci rivediamo domenica mattina come sempre alle 7.30. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.